In Quaresima siamo chiamati a seguire le orme di Cristo e affrontare il combattimento spirituale contro il maligno con la forza che viene dalla parola di Dio. La riflessione di Papa Francesco all'Angelus muove dal Vangelo odierno, che racconta i 40 giorni di Gesù trascorsi nel deserto, subito dopo aver ricevuto il battesimo nel Giordano e dunque con la discesa dello Spirito, l'investitura come figlio di Dio, destinato ad una missione ben precisa. Perciò, ha spiegato il Pontefice, il diavolo lo tenta, lo affronta sfidandolo a trasformare in cibo le pietre così da sfamarsi, distogliandolo dalla strada dell'obbedienza e dell'umiliazione per portarlo invece sulla scorciatoia del successo e della gloria. Ma, ha proseguito il Papa, le frecce venenose di Satana vengono tutte parate da Gesù con lo scudo della parola di Dio. Francesco ha ripetuto l'importanza di leggere la Bibbia, meditarla, assimilarla, trattandola quasi come fosse un telefono cellulare da portare sempre con sé, senza separarsene mai e tornando indietro quando la dimentichiamo. In effetti, se avessimo la parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del bene. Sapremmo vincere le quotidiane suggestioni del male che è in noi e fuori di noi. Ci troveremmo più capaci di vivere una vita risuscitata secondo lo Spirito, accogliendo e amando i nostri fratelli, specialmente quelli più deboli e bisognosi e anche i nostri nemici. Dopo l'Angelus, di nuovo l'invito a vivere la Quaresima come un cammino di conversione, di lotta contro il male, con le armi della fede, del digiuno, delle opere di carità. Infine il Papa ha chiesto preghiera per l'inizio questa sera ad Aricia degli esercizi spirituali a cui parteciperà con tutta la curia romana.